Un pezzo, siccome è in versione acustica, non l'abbiamo nemmeno, io non l'ho mai provato con loro, non so come l'abbiano ridotto, proviamo a farlo insieme. E, 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 e. Con tutti gli ovesti. Comincia a giallirsi il nero del lirico, non è più così tanto un lirico, e da oggi il dolore ritorna semplicemente sotto cutaneo. Ho cambiato la scheda al telefono, ho lavato nel lago lo spirito, e nel farlo il tuo corpo ha finito per essermi estraneo. E' un periodo pieno di sorprese, e non si contano più le orpese, e per decenza mi rimangerei. Ma ero stanco di sentirmi come uno strano sotto ai tuoi piedi, mi sarebbe esploso il cuore in primo posto. Alla parte non mi prendo, del povero Cristo, e perché mai tu l'hai data a me, puoi rispondere perché? Io dove finisco, in quale labirinto se non c'è, uscita o speranza di evadere? Continua a giallirsi il nero del lirico, non è più di dominio pubblico, e da oggi il ricordo diventa eternamente contemporaneo. La vendetta è servita sul tavolo, d'altra parte dei fili da copa, ma nel farlo il piacere sarà quello sì momentaneo. E' un periodo pieno di sorprese, in sottofondo a queste imprese, la musica pian piano salirà. Voglio prendermi un registratore, per tenerci dentro le parole, di quel proverbio che vi servirà. Alla parte non mi prendo, di chi è crocifisso, e perché mai tu l'hai data a me, puoi rispondermi perché? Io dove finisco, in quale labirinto se non c'è, uscita o speranza non c'è, nessuna certezza di evadere? Grazie a tutti.